ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video o eccoci qua con un'altra bellissima puntatella dedicata ai vostri ologi e alle vostre collezioni al vostro percorso come si dice grande fratello è tutto quello che concerne la vostra passione in questo simpatico mondo di pezzi di ferro con le lancette ho detto questo pochi discorsi oggi voglio far vedere però il nuovo orologio del giorno che è il mio bellissimo longina admiral del 1973 74 col bracciale integrato il suo bel quadrante completamente virato che fa anche rima dal blu ha diventato questo marroncino qua così un pochino striato simpatico un orologio che al polso sta anche bene direi che sta proprio bene al polso proprio bene sembra quasi un orologio contemporaneo beh è uno di quelli che orologi degli anni 70 col bracciale che danno proprio anche piacere essere indossati no che non si deve per forza trovare quella situazione di eleganza formale che hanno gli orologi da 33 34 mm ultra piatti classici vintage che conosciamo no questi qua degli anni 70 sono proprio più indossabili più moderni già già si possono considerare quasi con lo stile moderno poi ci sono quelli degli anni 70 che proprio vanno oltre nel design e cercano di proporre qualcosa di innovativo futuristico per il periodo in cui furono prodotti va bene bando ai discorsi inutili e barra spaziatrice pronta a subire colpi e noi con l'indice gli diamo il primo colpetto ciao davide ciao gli amici del canale caravano da vicenza e c'è un terzo video vado brevemente a farvi vedere che cosa ho preso ultimamente poi facci vedere allora partiamo da questo ma come che è un alfa rolex explorer va a 6 mm di diametro cassa e monta un movimento miota al suo interno è molto ben costruito devo dire la verità io l'ho pagato una miseria perché l'ho preso usato ma tenuto comunque molto bene e arrivava anche con un bel corredino in realtà bello bello e niente questo qua mi è tornato comodissimo l'ho usato veramente al lavoro al mare l'ho portato un po dappertutto e non riesco però a farmi piacere il fatto che non ci sia la finestra data quindi direi che bocciato bocciato ma vuol dire che andrò probabilmente orientarmi come già avevo questo dubbio su un omega acquaterra passiamo poi a un altro omaggio ma no 65 42 ideato per la panema airlines questo appunto è cinese x dao x dao x dao ma senti un po ma mi viene in mente quando uno guarda l'abbigliamento su amazon che trova ci sono le le polo a maniche corte che si chiamano g g k t o poi c'è un'altra che chiama a l k t poi c'è quell'altra si chiama e sono tutti uguali sono tutte le stesse fabbrica che gli danno un nomignolo diverso un brand diverso sopra non tanto uguali sono qua uguali x dao meno male che ci siete voi che ci salvate con questi orologi qua copie rimarchiate ma perché perché dovete spendere soldi qua non lo so contenti voi contenti tutti sotto fans o 65 42 e qua sotto in basso ore 6 è riportata la scritta homage in piccolo homage molto movimento seiko è totalmente in acciaio con corona logata e a vite la ghiera è girevole ma non mi convince non è troppo precisa la mia idea era quella di rimuoverla montarci un cinturino non in pelle di lucertola ma un tropic e utilizzarlo come lo utilizzava il grande marlon brando dopo il film apocalypse now ma scusate ma mi sembra che imitare il tuo stile di vita è quello di imitare cioè imitare negli orologi imitare nella vita reale veramente cioè fatti una domanda perché voglio dire c'è scritto su quell'orologio lì c'è anche scritto homage rendiamoci conto cioè come comprare un giocattolo e come comprare un giocattolo un orologio nel quale c'è scritto homage sopra è come che ci si fosse stampigliato non fatelo a casa è un gioco cioè una roba del genere e poi te lo vuoi aggeggiare anche per indossarlo come faceva il grande marlon brando ma a tenere di conto di come siamo messi imitare non solo imitare ma non è che imiti qualcuno della vita reale imiti qualcuno di un film quindi lui stava facendo la finzione stava facendo una finzione con un orologio vero te stai imitando la finzione con un orologio finto veramente è il colmo del nulla della vita cioè non sarebbe più bello che tu scegliessi un orologio che ti piace a te qualsiasi marca che vuoi di qualsiasi costo che vuoi te te lo metti al polso e la gente te lo riconosce per quello che lo stai indossando te farlo diventare iconico te sei un po di personalità se sei qualcuno in questo mondo ma intendo dire anche nella tua cerchia di amici no di oggi appassionati a sì lui è quello che indossa sempre quel 6 con 5 con il cinturino nato tagliato e fatto una roba del genere ma non è da raccopiare gli altri perché bisogna copiare gli altri poi si sono finti qua siamo messi male ragazzi questo orologio veniva peraltro fornito con questo bracciale acciaio molto ben costruito a magliettine e il suo logo dell'XDAO che come sta a me piace molto bravo passiamo poi così ad un altro orologio un quarzon questo qua è un timex l'ho comprato perché sono fan dei peanuts è abbastanza ecologico l'ho trovato una cifra come l'XDAO precedente molto bassa entrambi questi tre orologi li ho pagati veramente pochissimo infatti sono contento parliamo di tre orologi sotto i 500 euro e tre orologi sotto i 500 euro ora lascia perdere vale più questo timex per me che gli altri due mesi insieme tre orologi sotto i 500 euro questi qua se non li avessi presi via con 500 euro ti compri un orologio usato usato dico di secondo polso non voglio questo qua ho pagato 350 è un allogine degli anni 70 per dire no ma vuoi prendere uno di secondo polso recente perché utilizzarlo 500 euro ce lo prendi ci prende dei signori orologi eh se l'indiglo appunto e lo uso spesso lavoro ci ho montato questo cinturino nato verde e arrivava nella sua scatola con un cinturino in cuoio di bassissima qualità ma mi va bene così sono contentissimo bravo ci stia veramente bene siamo contenti noi mettiamolo via questo poi avevo fatto un video in cui gli chiedevo aiuto eccolo qua questo è il mio preferito in assoluto seico alpinist il field alpinist la misura un po più contenuta delle referenze uscite fino ad ora e aveva si era rotta l'asse del bilanciere il mio orologio aveva chiesto 280 euro per cambiarlo totalmente cambiare totalmente il movimento l'ho fatto cambiare alla fine perché non sono riuscito a trovare altre soluzioni neanche rivolgendomi ai collezionisti nei forum e successivamente ho mandato in casa seico italia dove mi hanno cambiato l'intero quadrante per risolvere il problema del dot luminoso delle ore quattro che si era spostato come si era potuto vedere nel video precedentemente inviatovi ecco qua l'hanno sostituito per intero sono davvero molto contento perché ma ora non ho capito hai mandato l'orologio per sostituire il quadrante ad a 6 con italia così dici te e ti è speso 200 euro per farti sostituire il calibro da un orologiaio qualsiasi ma scusa già che c'è non dirò potevi mandare tutto intero e spendere quello che c'era da spendere perché 200 euro sono tanti poi ti hai cercato sui forum ha detto ma la cosa principale hai fatto si è fatto fare preventivo da qualche altro orologiaio perché a me mi sembra che lui ti ha detto 200 euro poi hai chiesto sui forum se c'è esiste un pezzettino del bilanciere da infiliargli dentro nessuno ha detto di no e l'hai riportato da quello lì ma c'era anche l'opzione parlo con altri orologiai sentiamo cosa dicono oppure lo mando direttamente così ad a 6 con cambiate il quadrante cambiate il calibro e ridatemelo nuovo no a quel punto adesso qualora dovesse succedere un'altra cosa del genere perlomeno ho diversi dot e quali a tingere da questo vecchio quadrante che ho pensato un po così bravo anche se anche il mio orologiaio mi disse che quel dot lì tanto che lo rimosse era troppo piccolo per poterlo maneggiare si sarebbe sbriciolato a suo avviso quindi meglio così ci ho fatto sostituire il movimento il movimento precedente è questo qua tra l'altro la seiko nonostante il mio orologiaio fosse cioè sia un rivenditore ufficiale seiko gli avesse mandato tutti i codici era mandato con la ruota data bianca anziché nera e lo tengo qua magari un domani mi può servire qualche pezzo per riparare dal vecchio movimento che non sia l'asse del bilanciere di nuovo perché sarebbe veramente ridicolo ci ho anche trovato questo cinturino non vedo l'ora di montarci su quest'autunno bello bello siamo sempre una qualità veramente manifattura molto bello e niente vi mostro l'orologio del giorno che è questo swatch ironi era stato acquistato nel 99 da mio padre su un volo italia marocco mio padre lo ha usato finché durante un lavoro si è strappato il cinturino gli è caduto e lo ha lasciato lì non ha pensato di andare a cercare un cinturino di ricambio evidentemente all'epoca non era così facile trovare un negozio swatch qualche giorno fa sono andato qua vicino a casa mia appunto in un negozio swatch abbiamo provato a cambiare la batteria che era rimasta su per anni e io l'avevo già rimossa e avevo pulito il vano batteria da un grasso probabilmente dovuta all'acido rilasciato dalla batteria la batteria è acida e l'orologio è ripartito ho chiesto se ci fosse modo di sostituire il vetro ma mi hanno detto che essendo all'epoca termosaldati per evitare che potesse entrare l'acqua non è possibile sostituirlo mi informerò per vedere se qualcuno magari ne ha e ha modo di sostituirli ma mi va bene anche così lo si legge per l'uso che ne faccio io va più che bene semplicemente non ci farò il bagno per fare il bagno mi affido al mio promasterino bravo ny0040 su quale ho fatto montare un vetro bombato zaffero molto 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 robusto alla peggio il nostro carissimo e affidabilissimo radiocontrollato imbroglio imbroglio questo è tutto vi auguro a tutti una buona giornata caro davide spero di vederci presto magari a un watch meeting nel frattempo love 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 ma c'è poco ad essere contento a te ti do un bel 5 5 finalmente riesco a dare un voto basso 5 per quella prima parte lì ridicola con quegli orologi ridicoli anche per la gestione la brutta gestione la cattiva gestione del guasto al 6 come non si è capito perché mandare una cosa di qua una cosa di là poi quegli altri gli mandano il calibro con il datario di un colore differente non mi è piaciuta poi il discorso lì del anche anche promast c'è un orologio decente promast gli va a mettere il vetro zaffero ma devi tenerlo come mamma l'ha fatto come il citizen l'ha fatto è uguale non ha senso per me andare a cambiare ora io l'altro giorno cosa pensavo qua per esempio no pensavo sto orologio qua ok se avesse bisogno di una revisione vabbè tanto dentro c'è l l 6 3 3 che altro non è che letta 28 24 è uno dei primi meno male i pezzi di ricambio del 28 24 gli orologiai ce li hanno però a un certo punto va beh però quel punto lì allora si potrebbe che sostituire tanto le misure della cassa sono quelle interne con una netta 28 24 nuovo ma a quel punto lì allora per assurdo lo questo potrei sostituire anche con un h10 che è quello dell'emilton powermatic con la spirale libera ci sta le misure sono quelle ci metti dentro ma sarebbe lo stesso orologio se io mettessi dentro un calibro nuovo dentro questo qua sarebbe sarebbe la stessa cosa no che sarebbe se cosa funzionerebbe alla perfezione sarebbe precisissimo non avrebbe problemi ma non sarebbe lo stesso orologio quindi cambiare i pezzi agli orologi si rompono va bene cambi la corona è quello che vuoi ma poi a un certo punto c'è un limite oltre il quale è bene che l'orologio rimanga originale come quello svoce lì quando ti ha detto volevi cambiare il vetro la mia paura era che tu volessi cercare siccome sa un'altra cassa per poi metterci dentro il movimento ma allora diventa un altro orologio non è più quello di tuo padre al quale si è strappato il cinturino così deve deve tenere così graffiato è graffiato il vetro e lo tiene graffiato la cassa è graffiata e lo tiene graffiata se non si comincia a cambiare la cassa poi dopo cassa e movimento vecchio poi un giorno che si rompe il movimento prendi il movimento nuovo con tutti gli step ti ritroverai cassa e vetro nuovi calibro nuovo cinturino nuovo non è più l'orologio di prima cioè hai montato dei pezzi nuovi sostituendo quelli vecchi finché poi sono tutti nuovi capito fatto un po di casino nero spiegarmi spero di no vabbè dai ti do un bel 5 proprio con soddisfazione con molta molta soddisfazione ciao davide un saluto a te agli amici del canale oggi vorrei condividere con voi la mia piccola collezione cioè la mia passione per il mondo dell'orologeria questo è il primo orologio in assoluto da me acquistato volevo comprare un cronografo quindi iniziare con un cronografo e immaginavo appunto di farlo con un orologio speciale dal mio punto di vista l'omega speed master moon watch insieme allo zenith e il primero sono i due cronografi più iconici nella sola dell'orologeria beh io ci metterei guarda proprio per essere speed master è il primero da etona non gli si può negare questo primato è iconico e anche un pochino il bright in cronomat dai qui oppure anche il tagoyer monaco ecco fatto 55 cronografi che insomma poi se me ne dimentico qualcuno boh monaco cronomat speed master da etona e il primo cinque cronografi che riconoscibili al primo colpo questo nel dettaglio monta un calibro 18 61 ed è stato prodotto a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 quindi appena prima del movimento coassiale monta un vetro esalite e come potete vedere insomma dall'effetto del vetro e anche dal setup del bracciale a qualche graffio quelli perché comunque l'orologio è stato abbastanza usato non sono uno che tiene gli orologi in cassetta preferisco come dire alternarli ma utilizzarli con piacere sia in occasioni formali ma anche in occasioni informali e chiaramente il dazio da pagare è un pochino l'usure segni del tempo però il godimento riportare al polso un orologio è di gran lunga maggiore certo ecco questo è secondo si tratta di un orologio che ha una valenza affettiva particolare per me è un orologio che è stato prodotto nel 1989 anno della mia nascita e che è stato acquistato da me a fine gennaio praticamente quattro giorni prima della nascita del nostro primo figlio e la combinazione 1989 2004 crea come dire un intreccio interessante da raccontare un futuro anche per mio figlio se si appassionerà al mondo dell'orologeria bravo anche dare questa lettura qua non è male anno di nascita tuo poi quello di tuo figlio insomma volendo si trovano sempre questi incroci pericolosi nei quali si possono fare sono pericolosi perché poi la scimmietta che li trova allora io sono nato però il matrimonio però mio mio zio però la data del monomastico c'è sempre un buon motivo per fare gli incroci quindi occhio 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 però il tuo è veramente è veramente simpatico grazie per averci messo a conoscenza si tratta di un day just 36 in referenza 16 013 due toni quindi acciaio oro con lunetta canelè bracciaio jubilee e clasp classica dell'epoca cosa interessante dell'orologio è che il dial in origine era dire uno di un blu leggermente diverso e poi nel tempo si è in qualche modo parpolizzato quindi parpolizzato esposto alla luce crea un mix di riflessi tra il blu e viola il 16 013 anche il primo day just con datario a scatto rapido anche qui il datario vediamo che porta un pochino i segni del tempo perché leggermente ingiallito e come dicevo prima il primo la prima referenza che porta il datario a scatto rapido ma ed è anche l'ultima che monta il vetro plexi poi sostituito con il vetro zaffero nella referenza successiva 16 233 è un orologio che trovo bellissimo dal design ancora contemporaneo l'abbinamento di colori e dell'acciaio oro è straordinario dal mio punto di vista anche dal mio orologio che si fa indossare sia in occasioni formali ma anche come uno sportivo classico quindi anche in occasioni diciamo informali e amo questo questo orologio perché è veramente ciò che rappresenta da un punto di vista storico e le rifiniture che ha lo rendono un prodotto unico un evergreen questo è l'ultimo acquisto effettuato in ordine temporale e cercavo un dress watch possibilmente vintage possibilmente in oro e bello sai vedo che anche te hai la mania di acquistare o potrebbe essere anche una stampa insomma di cercare i ritagli pubblicitari dell'epoca originali e così si può matchare no come ti ha detto porpelli porpelli parpalizzato come hai detto prima si può matchare l'orologio che si possiede con quello della pubblicità piace anche a me questa cosa parapa mesi di ricerca ho trovato questo zenith stellina prodotto tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 totalmente in oro rosa corona originale cassa da 37,5 centimetri quindi parliamo di un oversize per l'epoca veramente molto bello ultra sottile bellissimo da portare in occasioni formali sia personali che lavorative veramente leggerissimo scompare al polso pur avendo un design di fine anni 50 risulta ancora attualissimo e lo trovo veramente veramente molto bello sfide di questo orologio sono appunto quella di mettere a posto il dial come puoi vedere si tratta di un quadrante troppo chiaro per l'epoca non porta i corretti segni del tempo quindi probabilmente è stato ristampato o restaurato melamente come si può anche notare dagli indici che non sono stati perfettamente apposti sul quadrante e poi dovrò cercare una fibietta originale dell'epoca ma al momento come dire mi sono arrangiato con questa fibietta placata oro rosa ho aggiunto questo cinturino cocco blu con le venature più chiare che dal mio punto di vista gli danno un tocco di particolarità e si abbinano perfettamente con loro rosa dietro l'orologio come vedi c'è una pubblicità zenith perché come dire sulla base delle ricerche che ho effettuato l'orologio dovrebbe essere lo zenith trinacria in particolar modo la versione da 37 millimetri e mezzo che all'epoca costava ben 77 mila lire e che molto appunto come dicevo prima il calibro 40 t ecco questa cosa qua della pubblicità vedi cosa serve che mi dice che il modello grande proprio identifica con grande da 37.5 mm in oro esisteva perché quando uno trova un orologio oversize già 37 38 mm il primo dubbio che deve venire ma esisteva veramente così grande perché le misure tipiche dell'epoca anni 50 anni 60 erano 33 lo standard 34 le 35 stiamo esagerando quando si va sopra significa che c'è qualcosa che potrebbe non essere corretto ad esempio prendere un quadrante ed un calibro e rincassarli in una cassa non sua ma più grande e così gli facciamo fare una bella figura da 38 mm e lo vediamo più facilmente al primo che capita che magari è spruveduto perché tutti siamo spruveduti quando andiamo a di fronte alla bancarella così ci troviamo è impossibile è possibile perché vi racconto quest'aneddoto ho preso questo poi ho preso anche un altro lo jean vintage e mi sono accorto una volta arrivato a casa che la carica manuale era inchiodata era inchiodata non me ne sono accordo davanti al banchetto no non me ne sono accorto come ha fatto non lo so ho controllato che scattasse la data che funzionassero le lancette che l'impostazione dell'ora non ho controllato la carica manuale quindi quando siamo lì capita a tutti di non di essere presi dall'acquisto e di non controllare tutto di non vedere magari qualche piccolo magagna o non funzionamento no quindi la cassa 38 mm 37 e mezzo in questo caso qua ci da ci conforta il fatto che la pubblicità dice che esiste quindi già ti metti un po con l'animo in pace la cosa bella anche di acquistare appunto questi orologi e anche cercare di capire e scoprire quale calibro indossano la storia che c'è dietro indossano venivano pubblicizzati insomma non finisce con l'acquisto dell'orologio anzi direi che inizia con l'acquisto dell'orologio e poi continua con tutte le ricerche il lavoro che il tempo che ci spendi appunto per per scoprirne la storia ecco questo è l'ultimo orologio che volevo portarvi l'icon di maurice lacroix un icon lady da 35 mm con diamanti apposti sul quadrante e quadrante in madreperla questo quadrante esposto alla luce restituisce un effetto fantastico quasi come se fosse un cielo nuvoloso e devo dire che è un orologio molto elegante molto ben definito che mia moglie indossa con piacere in occasioni serali o formali ma volevo portarvi questa referenza perché è poco vista ma dal mio punto di vista sono un polso femminile per il prezzo che ha è uno degli orologi più interessanti più belli sul mercato e questa è la mia piccola collezione ora mi sto orientando verso un orologio di forma sto guardando diversi orologi sia vintage che moderno in particolar modo mi sto focalizzando sul Cartier Tank o sul Gégé Le Coutre reverso spero di riuscire a completare questo acquisto entro la fine del 2025 grazie a tutti e love bello i quattro orologini semplici ma eleganti più che loro tu hai una scelta diciamo elegante ora quest'ultimo qua il Maurice Lacroix Icon da 35 mm lo indossa la signora è da donna si vede però non è mica escluso che qualche ometto lo possa indossare soprattutto per il quadrante madreperla quello è veramente unisex anzi sarebbe anche bello avere un bel quadrante madreperla l'unico punto un pochino così scicchettoso sono quegli indici brillanti che se uno è particolarmente estroso, estroverso e brillante come brillanti potrebbe anche dossarlo senza problemi 35 mm beh ci sta ci sta poi il resto c'è lo Speedmaster il Rolex Dejas da 36 vintegino lo Zenit e stellino vabbè è un 7, ti do un 7 perché poi quello della signora tu ne hai 3 dai diciamo così complimenti per la scelta successiva che è il Tanko o il Reverso di Gégé Lecoutre lì non ti posso dire niente ti auguro di acquistarli di metterli in collezione il prima possibile anche se mi sembra un bel saltino passare da insomma no insomma sono costosi anche quegli orologini lì dai lo Zenit in oro costa sono costosi quindi sei nel range della tua collezione poi ognuno fa come gli parli il Gégé Lecoutre mi garbicchia anche a me è quello che costa tanto perché costa tanto perché io lo vorrei di secondo polso recente o nuovo no seminuovo nuovo seminuovo quindi del 24-23-22 al massimo così con i moderni contemporanei quindi costano costicchiano però anch'io prima o poi credo no vai al prossimo video ciao Davide volevo presentarti la mia collezione sono Giorgio complimenti innanzitutto per il canale grazie e ci troviamo in una location un po' diversa dal solito non il solito salottino terrazzo cameretta cos'è? allora sono i primi due Zenit stellino belli acciaio e laminato oro bellini come quelli di prima acquistati una quindicina di anni fa sono quelli che hanno fatto partire un po' tutto quanto secondi piccoli ore 6 carica manuale non li uso perché sono molto delicati eh vedi andiamo avanti bombers e baumatic baumatic simpatico dai automatico ah sì un simpatico acciaio indici cromati corona ancora originale ah fondello chiuso scusa il calibro lì questo calibro qua è calibro modulare lo vedi che c'è la corona più in basso dei due pulsanti cronografici quella che hai messo così di fianco quindi ha il calibro modulare ho montato questo cinturino in pelle forato con le cuciture bianche guarda lì si vede anche dalla lente magnificatrice sul quadrante che l'hanno messa perché è abbastanza la parte il datario è sotto il modulo cronografico quindi abbastanza distante quindi per farla risaltare ci ha messo la lente magnificatrice dai al nero allora beh un bello orologio simpatico bello o no simpatico andiamo avanti certo omega c master oh che bello anni 70 guarda lì che design eh che design quando l'ho comprato non aveva questo bracciale ma aveva un morellato trovato poi uno coevo coevo fondella vite acciaio corono originale eh certo quadrante blu blu automatico poi un quadrante blu così lo abbiniamo con un mezzo verde oh dove sei vecchio anche lui ora ho capito quadrante blu che roba è quella lì benelli verde ah bene all'iverto grazie andiamo avanti andiamo avanti tanto qua zenith 146 hp ciao manuale laminato anni 90 quadrante in ceramica mi pare come ceramica bianco che bellino fondello a vista come fondello a vista già questo è il fondello più bello ora guardate bene il fondello come il fondello a vista come dovrebbe essere secondo me cioè così che mi inquadra no termine cinematografico che inquadra tutto il calibro veramente lì non come gli effetti l'effetto blu che spesso si vede e ce ne sono certi che hanno veramente uno blu così piccolino che inquadra una porzione del calibro e basta questo questo qua così è bello bello si vede tutto l'ardiglione originale trovato anni dopo fibia fibia l'ardiglione era conquistato bravo questo l'ho usato al giorno del matrimonio eh e l'ho indossato insieme a in chiesa con questa smorini anni 70 elegante con eleganza anni 90 ora mi viene in mente che c'era anche una canzone ho comprato la moto morini l'ho comprata soltanto per te ma da quando tu fai bip la tengo solo per me e poi c'era anche con la benelli è tutta una canzoncina andate a cercarla non so se esiste ancora l'ultimo ma cos'è un carro armato indistruttibile forse l'unico che uso l'ogine idroconquest bravo nero datato anche lui nel 2012 mi pare acquistato con scatola contro scatola tutto ebbè 2012 automatico simpatico e ancora i primi con la cassa un po' piccola non quei pataconi che fanno adesso enormi fanno 39 nero con bracciale satinato e al centro bracciale lucido bravo contrasto di colori da usare con questa nera con particolari cromati sposter bravo e scarichi aperti bravo ciao ciao caro saluto l'amico qua che ci ha abbinato le moto agli orologi bravo simpatico ti do un set ti do un set sei maggiormente orientato verso il vintage e laddove non è vintage sul secondo polso tipo quello lì idroconquest del 2012 che non è datato 2012 sono 12 anni fa è seminuovo dai un orologio di 12 anni non so niente beh 7 belli orologi stellina che non utilizzi perché sono delicati e qui si torna al solito discorso quando qualcuno io amo il vintage piacciono gli orologi vintage ma quando qualcuno ti suggerisce è quasi un luogo comune quasi una litania eh ma con gli stessi soldi ci prendi un vintage più pregiato no? che è vero perché magari con 2000 euro ci pigli un orologio nuovo normale e con 2000 euro ci pigli un orologio vintage veramente con qualcosa di pregio con un calibro bello no? però poi quelli lì sono delicati volenti o nolenti pezzi di ricambio si trovano con il contagocce o quando non invece non si trovano proprio eh io questo qua lo addosso lo sto indossando quando l'ho comprato non l'ho ancora tolto perché mi piace lo sto indossando io ogni volta che vado a lavarmi le mani vado a lavare i piatti vado a fare lo tolgo lo devo togliere è una scocciatura perché lo metti lì ti devi ricordare perché se poi ci entra l'acqua dentro non lo sai te qua come sono messi ti si rovina tutto l'orologio figuriamoci andare in giro esco una sera con questo ogni volta che devo lavare le mani uno schizzo di qualcosa la birra esce fuori dal no non si possono utilizzare come fossero orologi normali i vintage vanno utilizzati con cura vabbè il set te l'ho dato la collezione mi è piaciuta te sei stato simpatico un po' poco loquace ma simpatico prossimo video ciao Davide ciao qui per mostrarti la mia umile collezione partiamo umile collezione va bene però ti sei il king of the tovaglias guarda lì che la tovaglia con i fiorellini però anche plastificata proprio qui siamo veramente al top del kitsch al top del kitsch subito con un Hamilton Kaki Field che conosciamo tutti con il suo calibro H10 eccolo lì parlavo prima eccolo qui bravo oggi appunto che abbiamo già visto e rivisto a me piace con questa configurazione con il cinturino in pelle bellissimo bellissimo passiamo ora a un 6.5 sport anche qui lo indosso con un cinturino in pelle il suo calibro 4R36 mi piace più col bracciale molto bello secondo me con questo cinturino in pelle risalta ancora di più la sua bellezza no per me no rispetto insomma al bracciale per me no passiamo ora ai vintage vai abbiamo questo Omega davvero in ottime condizioni bello con la cassa placata oro placata con i secondi piccoli in basso un orologio bellissimo bellissimo passiamo ora ad un login quest'ultimo invece ha la cassa in oro oh bravo con questo bracciale verde secondo me è fantastico inoltre quadrante anche in ottime condizioni abbiamo anche un Vetta con questa cassa a scalino bellissima ah particolare anni 70 proprio questa questa cassa non si vede tutti i giorni infatti è fantastica sarà motivo e poi infine abbiamo un altro vintage un Wonder Watch una casa svizzera che diciamo non so ma so che è fallita insomma negli anni 70 quando il quarzo incomincio a insomma a prendere il sopravvento sta messo abbastanza male è bello così con i suoi segni del tempo insomma si può essere mia umile collezione alla prossima è velocissimo umile umile collezione va bene un 6.5 6.5 altro non so cosa dire sei nella norma degli orologi simpatici perché Seiko Hamilton beh i login vintegini ma 6 e mezzo ci sta altri commenti non ci voglio da fare se non che non mi hai fatto vedere attentamente quel 30L della login che a me sai che mi piacciono tanto i login e volevo dargli un'occhiatella un pochino più no c'ha il logo stampato sì va bene perché ho visto dietro aveva dei numeri strani aveva una cifra corta rispetto ai soliti milioni che ci devono essere boh non lo so poi sarebbe interessante vedere il fondello dentro con la funzionatura dell'oro tutte le informazioni che ci sono è come leggere un libro te guardi il fondello e leggi un libro e capisci da dove viene l'orologio 6 e mezzo te l'ho dato altro non so che dirti sì entry level agli inizi con il khaki field e l'altro simpatico orologio che non mi ricordo più qual è e va bene comunque dai passiamo il video ciao davide ciao sono angelo della provincia di torino un po' d'allegria angelo della provincia di torino perché mi sembra che c'è la voce abbastanza da suicidio metallica sad but true live in baltimore beh se anche a te ti piace il metallica bravo 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 ti mostro la mia raccolta di orologi ecco questa è la scatola da dieci posti posti dieci posti che è sempre piena perché avendo undici orologi praticamente sì al termine della mia raccolta perché credo di aver raggiunto idealmente scimmia permettendo una scimmietta lì qua della nocciolina no? credo di aver raggiunto l'ideale per me comunque balbo le ciance come? passiamo agli orologi vai cominciamo con un Hamilton questo è il Hamilton scuba 100 metri 100 metri oh ecco col cinturino suo in silicone oh ok va bene ok dopo di che dai un mido multiforth tv big date tv big date oh vedi che ce la fai se vuoi con il quadrantino grigio righe righe a righe a righe ecco una trama orizzontale arancione in cauccio sarà il silicone sarà il silicone il cauccio la gomma naturale un Tudor black bay 58 blu ti dà anche il top al quale ho applicato un tropic perché applicato mi piaceva proprio l'idea di discostarlo un po' dalla massa bravo di tutti i black bay col bracciale certo finto rivettato insomma così mi piaceva distinguerlo un pochino ha fatto bene non te la prendi ora passiamo a un seiko king turtle manta ray simpatico anche questo cinturinato anche qua poi sempre un seiko in questo caso è un siccome che vanno a sigla io ho tutte quelle sigla eh posso neanche rimemorizzarle le vero io è un una reinterpretazione quindi deve essere un turtle reinterpretation reinterpretation che non è proprio la classica cassa turtle eh eh la chiamano così comunque sì sempre di quella forma però non è stondata sui dati sì lo trovo anche questo molto molto carino carino passiamo al rado captain cook da 42 bello con un bel cinturino vintage in pelle verde che gli ho applicato bello verde non sembra verde sganci rapidi bravo sganci rapidi oh poi abbiamo un altro Hamilton questo è il kaki aviation pilot pioneer pioneer da 38 anche qua il suo cinturino era veramente troppo corto per il mio posto ce lo chiudevo o all'ultimo o al penultimo foro quindi ho preso questo bellissimo cinturino secondo me nella tonalità più chiara sì che ci sta benissimo magari facendo copia con i numeri i numeri sul quadrante che sono chiari io lo roggino tutto sommato lo trovo molto oltre che robusto simpatico via simpatico 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 dopo di che c'è un Hamilton kaki bello questo mi piace tanto field meccanico carica manuale meccanico ci piace anche lui con un cinturino sabbia pelle sì mi piacciono molto i cinturini perché i bracciali li sopporto poco poi si irrigano con troppa facilità allora se l'orologio permette di abbinargli bello dei cinturini preferisco bella scelta questo ecco uno jean mi piace questo è l'hydroconquest l'ultima referenza blu blu ghiera ceramica un bellissimo quadrante e a questo ho applicato il suo cinturino originale l'onjins si vede bello in cauccio ci sta bene quelle finali tondi eccolo qua eccolo lì poi poi come penultimo pezzo che in realtà però è l'ultimo arrivato in collezione davvero nella raccolta io affezionatissimo del film interstellar sì però siccome che non curante del fatto che l'hype in seguito al film si era focalizzato soprattutto sul marf quindi il khaki field che ritengo fin troppo classico non nei miei gusti ma ben sapendo poi in seguito che il protagonista del film proprio protagonista indossava questo Hamilton aviation pilot day date poi visto dal vivo in negozio mi ha proprio convinto la scimmia si è messa lì sulla spalla dai 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 sì sì lo prendiamo lo prendiamo dai prendilo 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 e alla fine che ho fatto ho dovuto dare la nocciolina alla scimmia una bella noce e via e via e pasticchile delle pigli perché mi sa che devi prenderle e adesso passiamo proprio all'ultimo orologio della raccolta orologio del giorno al polso bello un ronjin spirit sempre bello spirit mamma mia questo è il 40 mm mi perdo sempre qualche millimetro perché poi non mi ricordo sì 40 40 nero che mi regala soddisfazione giusto certo va bene e con questo ti saluto ciao e tanti auguri per il canale tanti auguri per il canale complimenti per il canale auguri si fanno quando c'è un'occasione di una celebrazione ma va bene non voglio stare tediarvi con la lingua italiana ti do 7 dai ti sei un po' tirato su verso la fine con tanti bei pezzettini un bel 7 tondo te lo meriti orologi tutti di grande impatto scenico spirit è uno dei miei preferiti orologi di sempre però mi ricordo che ce n'è 10 tutti belli cavolo c'è anche il Tudor Black Baby Seiko gli Hamilton tanti l'onjin forse 7 anche poco però ormai ho avuto 7 e ti risetto beh bella collezione dai ragazzi poi basta non è che posso stare qua a leccarvi il deretano più di tanto 7 7 farvi rivedere un attimo spirit nero 40 mm perfetto mi sembra di aver detto tutto ragazzi non è che io posso stare qua all'infinito a dipingere i quadri ornamentali adesso devo andare a vedere i gattini su instagram e quindi vi devo abbandonare io vi ringrazio per essere arrivati fino qua per aver guardato il video con me i video con me l'orologio del giorno con me e anche gli occhiali del giorno con me detto questo vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale